Direttore generale di Asso Lavoro, è presente? Sì, è presente. Buongiorno Presidente, grazie. Prego, gli stessi tempi dei suoi predecessori, 5 minuti, prego. Esattamente, grazie. Ringrazio lei Presidente, grazie senatrice, grazie senatori per aver accolto l'invito di Asso Lavoro ad essere unita nell'ambito dei lavori per la confessione del decreto legge in materia di Green Pass. Esprimiamo ovviamente un giudizio positivo sul provvedimento, e noi richiediamo solamente che venga affrontata una questione di carattere giuridico, tecnica, che possa meglio specificare gli adempimenti previsti dal decreto per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione. La questione nasce da una formulazione non felice contenuta nel decreto legge quando fa riferimento ai cosiddetti contratti estermi, una formula non precisa dal punto di vista giuridico, per i quali è previsto il doppio controllo, sia da parte del datore di lavoro ospitante che da parte del datore di lavoro ospitato. Da questo punto di vista la migliore dottrina si è espressa in questi giorni per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, escludendo la somministrazione dal modulo di questi contratti. Questo per una serie di motivazioni di carattere giuridico che sono rinvenibili da sempre nell'ordinamento del nostro Paese e che connotano l'Istituto della Somministrazione di Lavoro rendendolo particolare nell'attribuzione degli obblighi sia a carico del datore di lavoro formale, quindi l'Agenzia per il Lavoro, che il datore di lavoro sostanziale, che è l'utilizzatore presso il quale il lavoratore in somministrazione viene inviato. In base alla legislazione vigente, quando il lavoratore somministrato è inviato presso un'azienda, e questo è soggetto esclusivamente alla potestà regolatoria dell'utilizzatore, in quanto il lavoratore svolge la propria attività nell'interesse sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Di fatto quindi l'Agenzia trasferisce ogni potere dispositivo di controllo dei lavoratori somministrati in capo all'utilizzatore. E questo anche per assoggettare questi lavoratori al principio di parità di trattamento, che è anche previsto dalle norme del nostro ordinamento, nei confronti dei lavoratori diretti assunti dall'utilizzatore. La legge dispone anche, per esempio, che il potere disciplinare venga esercitato esclusivamente su indicazione dell'utilizzatore. Invece l'Agenzia per il lavoro è primeramente adeguata dal punto di vista formale. Da ultimo, anche tutto l'impianto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono state anche ricordate, facendo riferimento all'articolo 2087 del Codice Civile, attribuiscono tutti gli obbligi prevenzionali e di tutela sui luoghi di lavoro all'utilizzatore stesso. Quindi, escludendo il lavoro di somministrazione dal numero dei contratti esterni, per i quali è previsto il doppio controllo, va sottolineata una differenza sostanziale, per esempio con il contratto di appalto, che come noto è connotato dal fatto proprio che l'appaltatore ha un potere organizzativo e diretto proprio nei confronti dei propri lavoratori, assumendo anche il rischio di imprese. Questi sono gli elementi che connotano la genuità dell'appalto e che si distimolano completamente rispetto al contratto di somministrazione nel quale, come detto, il lavoratore soggiace esclusivamente... Di Maio, gentilmente, può alzare un po' il tono della voce? Si sente poco. Grazie. Il tono della voce. Nel contratto di somministrazione, dicevo, il lavoratore soggiace esclusivamente al potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore. Quindi, a questo punto, si apre una questione di carattere giuridico su quali sono le modalità con le quali il controllo del Green Pass deve essere effettuato nei confronti dei lavoratori in somministrazione, escludendo il fatto che debbano essere assoggettati a un doppio controllo. La legge, il decreto legge, prevede che il controllo avvenga al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, che i luoghi di lavoro sono necessariamente quelli dell'utilizzatore presso il quale il lavoratore viene inviato, e al momento in cui la prestazione lavorativa inizia. Chiaramente questo controllo non può essere effettuato presso la filiale dell'Agenzia per il lavoro che assume il lavoratore, anche perché l'assunzione potrebbe avvenire temporalmente molto prima dell'inizio della prestazione. E quindi, anche in accordo con la circolare di Confindustria alla quale noi aderiamo, riteniamo che, fermo restando gli adempimenti di natura civilistica, nel corretto adempimento dell'obbligazione dell'Agenzia nei confronti dell'utilizzatore, il controllo del Green Pass debba avvenire necessariamente da parte dell'utilizzatore e che l'Agenzia sia obbligata a fornire al lavoratore una informativa in merito alla necessità di munirsi di Green Pass nel momento in cui questo lavoratore va a svolgere la propria prestazione di lavoro. È un elemento di chiarezza, anche se, ripeto, la dottrina in questi giorni si è espressa in maniera unanime nel indicare questa modalità di ripartizione degli obbligi, ma riteniamo che un intervento emendativo, preciso, possa, come dire, fare anche normativamente, definitivamente, chiarezza su questo punto. La certezza è un elemento fondamentale a garanzia proprio della tutela e della salute e della sicurezza dei nostri lavoratori. A tal fine, noi vi trasmetteremo nei prossimi minuti una memoria nel quale argomenteremo questi aspetti che ho provato ad illustrare velocemente per stare all'interno dei cinque minuti e proporremo anche un'ipotesi emendativa molto semplice che specifica quali sono le modalità che devono essere utilizzate per il controllo del Green Pass dei lavoratori somministrati in coerenza con le cose che ho detto e soprattutto le norme che da sempre le disciplinano nel nostro settore. Spero di essere stato all'interno dei cinque minuti e ringrazio ancora sia il Presidente che la Commissione per aver ascoltato la nostra associazione su un tema che per noi è particolarmente importante perché è finalizzato appunto a garantire la tutela dei nostri lavoratori. Grazie. Sì, grazie direttore Di Maio. Sì, lei ha sforato di poco, ma erano importanti le cose. Magari se ci fa pervenire un suo scritto che possiamo allegare agli atti quindi... ... Grazie.